Di nuovo il più cortiale Buon Sabato giunge a tutti quanti voi da parte mia Roberto De Angelis, Dio, Luce e Gioia di Speranza, podcast qui su Springer e su RDA Radio 1 e su Youtube, sempre su RDA Radio 1, è una playlist che potrete vedere tutte le volte che vorrete. Allora, siamo in connessione con opmedia.it, che è il sito ufficiale della comunicazione della Chiesa Cristiana Adventista del settimo giorno, il sito è scritto con l'h davanti opmedia.it e siamo in connessione e collegamento con Radio Voce della Speranza, Accende la Speranza. Un importante annuncio vi voglio fare da parte mia per quanto riguarda domenica 25 dicembre prossima, quindi domani mattina, perché domani mattina dalle 9.55 alle ore 11, Rai 3 trasmetterà il culto evangelico di Natale in Eurovisione dalla collegiata Saint Germain di Moutier in Svizzera. L'edizione italiana è a cura della rubrica protestantesimo con la conduzione di Claudio Paravati. Situato nel cuore del Jura, nella parte francofana del cantone di Berna, la città di Moutier è nota a livello internazionale per essere stata l'epicentro della produzione di macchine, utensili e torni automatici fin dal XIX secolo. La mattina di Natale, quindi domani, le comunità protestanti riformate di Moutier e dei comuni circostanti invitano a celebrare la nascita di Gesù. Il culto sarà trasmesso in diretta dalla collegiata di Saint Germain. Costruita sulle rovine della chiesa abbaziale di Moutier, Granval fondata nel 640 e rinomata in tutta Europa, ospita la parrocchia riformata dal 1859. Il culto sarà presieduto dai pastori Karolin Wischi e Kentin Genere. La parte musicale, con Daniel Marchi all'organe, al pianoforte, e Nathan Zurker al violoncello, sarà arricchita dal coro parrocchiale diretto da Isabelle Gessat. Una produzione, chiaramente, di RTR Radio Television Suisse, edizione italiana per protestantesimo R3, a cura di Marco Davide. Allora, vi ricordo ancora una volta, domani mattina, domenica 25 dicembre, dalle 9.55 alle 11, R3 trasmetterà il culto evangelico di Natale in Eurovisione dalla collegiata Saint Germain di Moutier in Svizzera. L'edizione italiana, naturalmente, è a cura della rubrica protestantesimo con la conduzione di Claudio Paravati. L'occasione, poi, mi è gradita, molto gradita, per formulare a tutti voi gli auguri di un sincero, sereno Buon Natale. Un Natale che parta sempre dai nostri cuori e veda sempre meno l'aspetto commerciale della festa laica, ma ha molto molto di più acceso l'aspetto religioso della nascita di questo Salvatore che si è immolato per noi, per salvare la razza umana e redimerla dai peccati. Buon Natale a tutti quanti voi, alle vostre famiglie, e a tutti coloro che fedelmente ci seguono, e a tutti coloro che casualmente si fermeranno su questa web radiofrequenza e ascolteranno questo annuncio. Culto Evangelico di Natale, in Eurovisione su Rai 3, dalle 9.55 alle 11, domani mattina 25 dicembre. Di nuovo il più cordiale Buon Natale a tutti.